Passano i guardi, passano i vicini rubati, passano i carabinieri, passano la finanza e nessuno le dice nero. Poi vi debba andare a fermare uno che sta portando un po' che ha speso la casa. Hai capito? Abbiamo una perga italiana con questa solita a 20 metri raggetto. Poi, è la stanza una copana. Poi, questo vuole essere la deluva, dei magistri. Questo vuole essere dice. Si guarda che stanno a fare. Ha fatto fuggire attorno alla piazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I pastori corale. Perной a 4 Stelle. A 3 Stelle. Quindi per annoyed. La resta. Sucristo. Questa